e anche ci sono due pesche grazie no io ho sempre paura che ci sia qualcosa io sono qui la batteria quindi elettrico facendo l'elettricista so come è una deformazione professionale ma non viene da qua no no l'importante è spostarsi la sento benissimo anch'io grazie 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 a tutti 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 25 Grazie a tutti 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 Orso Grazie a tutti 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 1-1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti